ma questo era veramente coltieri sì nelle vie c'erano tanti piccoli negozi e botteghe sotto i portici davanti al bar c'erano tante sedie piene di gente le persone si incontravano sulle panchine anche solo per fare due chiacchiere stare in compagnia sì ma è in bianco e nero sì in bianco e nero certo però sono le immagini in bianco e nero il paese invece era pieno di vita e di colore e adesso dove sono tutti e adesso dove sono tutti è diventato un paese grigio come quasi tutti i paesi non c'è più quella gioia sembra sia stato abbandonato allora ridiamogli vita abbiamo bisogno del tuo contributo aiutaci con una piccola donazione e interverremo insieme in spazi ormai chiusi da tanto tempo per ridare vita e creare spazi unici belli accoglienti a disposizione della collettività